Carissimi, bentornati al caffè. Stiamo per finire la nostra analisi dettagliata sugli indifferenti di Alberto Moravia. Siamo arrivati al capitolo 14, vediamo se oggi riusciamo a concludere. Comunque ecco, questo è uno dei capitoli più importanti perché qui proprio emerge il significato che Moravia attribuisce all'indifferenza. Abbiamo detto che l'indifferenza è proprio quel profondo senso di angoscia, lo dichiarò anche Moravia in un'intervista. Per lui l'indifferenza è uno stato di angoscia, di angustia, che non ci abbandona mai ed è proprio quella caduta del rapporto tra l'io e la realtà ed emerge proprio dalle parole di Michele mentre lui parla con Lisa. si trova a casa sua, stanno discutendo, siamo sempre in questi luoghi bui, chiusi, angusti e ad un certo punto ecco che Michele si confessa un pochino, debbo dirti, incominciò, che io mi trovo in una curiosa posizione di fronte a tutti voi. Chi voi? Voi della famiglia, tu, Leo, mia madre, mia sorella? Per ciascuno di voi dovrei provare un certo sentimento, dico dovrei, perché volta per volta mi sono accorto che le circostanze ne esigono sempre uno. È come andare ad un funerale o delle nozze, in ambedue i casi un certo atteggiamento di gioia o di dolore è obbligatorio come il vestito di cerimonia. Non si può ridere seguendo una bara o piangere nel momento nel quale due sposi si scambiano l'anello. sarebbe scandaloso, peggio, inumano. Poi però è interessante come prosegue ed è questa la parte fondamentale. Chi per indifferenza non prova nulla deve fingere, deve fingere. Così io con voi fingo di odiar Leo, di amare mia madre. E poi domandò Lisa avidamente vedendolo esitare interrompersi. E poi basta, egli rispose. Si sentiva annoiato e triste. Io non so fingere e allora capisci? A forza di sentimenti, di gesti, di parole, di pensieri falsi, la mia vita diventa tutta una commedia mancata. Io non posso fingere, capisci? Continuamente ripete questa domanda, capisci, capisci, ma lei non può capire. Lui non prova nulla, deve fingere. Ecco la maschera pirandelliana. Io sono costretto ad assumere un ruolo all'interno della società perché io non riesco a vivere e quindi devo fingere di vivere. Io non vivo, divento uno spettatore di me stesso, non provo nulla, non c'è più quel contatto con la realtà. È come se io fossi lì, ma in realtà mentalmente, spiritualmente fossi altrove o fossi al di fuori. È come se io osservassi la scena dall'alto, ma non riuscissi più poi a ricalarmi all'interno della realtà. Sono stato tolto da quel luogo, c'è stata una frattura, non sono più in contatto diretto con le cose. Non vivo, ma mi vedo vivere. Diventa tutta una commedia, una scena teatrale. Vi ho detto che il teatro è fondamentale anche nell'opera di Moravia. È proprio così. Lui è come quel fantoccio, quella marionetta, ma lui veramente non prova più assolutamente nulla. E così come non posso odiare Leo, di cui potrei raccontarti per filo e per segno tutta la storia delle sue relazioni con mamma, nello stesso modo non posso amarti. È sempre la stessa ragione, indifferenza, sempre indifferenza, cioè noia, angoscia, angustia. Piuttosto che fingere di caderti fra le braccia, di morire di passione per te, di farti delle dichiarazioni, visto che non mi riesce, preferisco non farne nulla. E quindi tacce, non fa niente. Lui confessa tutto il suo stato d'animo. Guardate che questa è una denuncia, una denuncia potentissima, è una dichiarazione proprio di impotenza. Non posso più fare niente di disperazione anche, però lui non può essere compreso. Lisa non lo capisce veramente, perché tra lui, cioè tra il soggetto, l'intellettuale, il poeta, lo scrittore e l'altro c'è quell'incomunicabilità. Non c'è più niente, anziché fingere, dice Michele, meglio non fare niente, però così non vivo più. Cioè come il cane che si morde la coda, è un circolo vizioso. Lui non sa né amare né odiare, perché tutto gli dà noia. È solo un grande senso di ansia, di angoscia e basta. Non mi importa nulla di mia sorella. Non mi importa nulla di nessuno. Lisa, come debbo fare? Sentite proprio il richiamo a quelle profonde domande dell'uomo di leopardiana memoria. A che tante facelle? Che vuol dire questa solitudine immensa? Ed io che sono? Che sono? Io chi sono Lisa? Che cosa devo fare? L'abbiamo letto anche la volta precedente. Questi uomini dove vanno così di fretta? Qual è la loro meta? Da dove vengono? Qual è il loro scopo nella vita? Dice io non lo so più perché non so che cosa fare, non so più come muovermi, proprio perché sono costretto a fingere, a recitare una parte ed è lì che vivo non soltanto in una prigione, ma che soffoco la mia identità e quindi non sarò mai felice. Quindi se ci pensiamo, tornando alla dimensione teatrale, Michele sembra proprio un attore del teatro. Pensa continuamente alla scena che dovrebbe recitare, se ci pensate lui è seduto, osserva gli altri muoversi e dice io dovrei fare così, dovrei fare colà, dovrei arrabbiarmi con lui, dovrei ridere di lei, dovrei offenderlo, dovrei dargli un pugno, dovrei addirittura ammazzarlo, perché poi si parlerà anche di omicidio. Però non è un atto che gli viene spontaneo, le scene non gli vengono, lui è solo tutta volontà e impotenza, ma non viene mai espressa in atto, perché tutto gli è mortalmente indifferente, non prova niente, dovrebbe essere arrabbiato con Leo, dovrebbe difendere Carla, dovrebbe o potrebbe amare Lisa, non gli interessa niente, oppure solo sfruttarla per il suo piacere sessuale, non prova niente. Quindi lui sta tentando in tutti i modi di escogitare uno stratagemma proprio per riappropriarsi di quel contatto diretto, per ricucire quella frattura, deve escogitare proprio un modo per tornare coi piedi per terra, per essere calato nuovamente nella realtà, ma non riesce in nessun modo a farlo. Ed è questo il dramma, come posso fare Lisa? Non c'è, non c'è più la soluzione, ecco il dramma, c'è ancora in Moravia questa riflessione filosofica profonda, che aveva fatto anche Leopardi, che farà Manzoni, che fanno moltissimi autori della nostra letteratura italiana, ma non c'è più una soluzione, ce lo aveva già detto anche Montale. Io mi interrogo, cerco il visiting angel, cerco la mia visione, il mio contatto epifanico, ma non c'è più il varco per poter uscire, il punto morto del mondo, l'anello che non tiene, la maglia rotta, non ci sono più, è quello il problema, come posso fare? Non posso, io vedo quel muro che è in cima cocci a guzzi di bottiglia, ma non posso andare oltre, come direbbe Schopenhauer, non posso bucare il velo di maia. Ricordatevi anche l'altra modalità di lettura, di analisi, il modo per ribellarsi all'ordine costituito, alle generazioni che hanno costruito un sistema che ai giovani non piace più, forse dice l'unico modo è uccidere Leo, forse ammazzando, compiendo questo gesto estremo, violento, sarò ricondotto alla realtà, sarò finalmente ricalato nel contatto diretto con gli altri, con tutto ciò che è esterno a me, ma sarà veramente così? Assolutamente no, ve l'ho già detto, gesti eroici, qui non ce ne sono, non c'è più l'eroe, non c'è più il suicidio eroico o in questo caso potremmo chiamarlo l'omicidio eroico, proprio perché non c'è possibilità di risolvere il problema, il problema è stato capito, è stato analizzato, è stato denunciato, sbattuto in faccia al lettore, ma non c'è una chiave risolutiva, non c'è cioè quella formula che possa risolvere il nostro problema, posso soltanto dirti ciò che non siamo, ciò che non vogliamo, posso dirti il tipo di poesia, di scrittura che non voglio più fare, posso anche dirti chi non vorrei essere, cosa non vorrei fare, ma non posso dirti come fare per tornare ad essere quello che non sarò mai più, perché la frattura è insanabile, questa rottura, questa malattia, il disagio dell'uomo moderno non si può togliere il male di vivere a morbo all'anima e ci perseguiterà per tutta la vita e dice proprio anche con atto di sfida a Lisa, non mi credi capace di fare un'azione simile, forse io non sono in grado, no dice, probabilmente no e si mette anche a ridere e allora lui lo prende come un atto di sfida, prova adesso a recarsi da Leo perché nessuno gli crede, gli crederà mai, ed è soltanto al capitolo 15 che possiamo assistere all'atto mancato di cui parlava anche Sigmund Freud, quindi parliamo anche un po' di psicanalisi, qui adesso c'è una scena che viene ovviamente esacerbata, che viene ingigantita, quindi parliamo proprio di grottesco, di pathos, perché è una scena anche patetica ma grottesca perché tutto viene estremizzato, gonfiato, proprio per sottolineare anche l'assurdità della scena, questi due che lottano perché lui tenta di ammazzarlo, una sedia che vola, quindi una sediata in faccia, comunque addosso, poltrone che volano, i due che si rincorrono ma lui non riesce a sparargli, non riesce ad ammazzarlo da mezzo metro, da un metro, comunque sono nella stessa stanza perché non per la prontenza di Leo nello spostarsi ma perché Michele si dimentica di caricare la pistola, è andato in quel negozio, in quell'armeria, ha comprato l'arma ma si è dimenticato le pallottole in tasca, ce le ha lì ma non le ha caricate, perché ci direbbe Freud, perché lui non ha realmente intenzione di ammazzare il padre, cioè di uccidere quello della generazione precedente, la rivista borghese, quello senza scrupoli, lui vorrebbe uscire da questo sistema capitalistico, da questa società borghese ma non riesce ad ammazzare la borghesia perché il letterato, l'intellettuale, comunque il giovane non ha gli strumenti, non ha i mezzi oppure non ha le soluzioni per cambiare il mondo o meglio potrebbe anche abbattere il vecchio mondo ma poi non sa come ricostruirlo perché è facile criticare, ma quale tipo di società costruiamo al posto di quella che critichiamo e che non ci piace? Non è facile, è più facile criticare che costruire, è più facile demolire, abbattere che poi ricominciare tutto da capo e riedificare dalle ceneri, quindi sì per carità Dio è morto e noi lo abbiamo ucciso ma cosa poi metto al suo posto? Boh non lo sappiamo, io non voglio più la generazione vecchia, non mi identifico più nei suoi valori, nei suoi ideali, parliamo di una società che sfrutta, che mantiene il lavoratore sottopagato benissimo, bisogna cambiare, ma come? Ecco Michele non lo sa e non riesce e non lo può fare, intanto perché è da solo ma soprattutto perché è un fallimento. È scarica, comprese al fine atterrito e le palle l'ho io in tasca, fece un salto da parte per evitare la seggiola di Leo, corse all'angolo opposto, la testa gli girava, aveva la gola secca, il cuore in tumulto, una palla pensò disperatamente, soltanto una palla, ci bastava soltanto un atto piccolissimo per cambiare tutte le cose, ma non l'ha fatto, frugò, arraffò con le dita febbrile alcuni proiettili, alzò la testa tentando, curvo con le mani impazzate, di aprire il tamburo e cacciarvi la carica, ma Leo scorse il suo gesto ed egli ricevette di sbieco un colpo di seggiola sulle mani, sulle ginocchia, così forte che la rivoltella cade in terra, dal dolore chiuse gli occhi, poi una rabbia indicibile lo invase, si gettò su Leo tentando di stringerlo al collo, ma fu preso, scagliato, prima destra, poi sinistra e al fine respinto con tanta violenza che dopo aver ciecamente urtato e rovesciato una sedia cadde sul divano, l'altro gli fu subito sopra e lo prese per i polsi e dopo inizia a pensare che in realtà tutto ciò che ha appena fatto non ne va la pena, poco dopo dice gli tornava un lamentoso desiderio di certe lontanissime carezze materne, quindi pensa a sua madre e alla fine si rende conto che tutto quello che ha fatto non ha nessun senso, non serve a niente proprio perché non può cambiare le cose, in fondo a lui di cambiarle veramente non gli importa, ecco di nuovo l'indifferenza, l'atto mancato di cui parlava Freud che poi troveremo anche nella coscienza di Zeno, Zeno Cosini che sbaglia funerale, va al funerale della persona sbagliata perché in realtà odia il morto, quello vero e quindi evita accuratamente di andarci. Adesso facciamo un passo indietro, interessante perché Michele mentre va a comprare l'arma e poi si reca da Leo ecco che lui si immagina di comparire davanti al giudice, quindi si immagina tutta la scena, tutto il processo in tribunale e si mette anche a spiegare le ragioni del suo omicidio e si rende conto che lui probabilmente sarebbe stato assolto dal giudice ma non dalla vita, cioè io lo ammazzo perché non posso più vivere questa vita, ho tutte le ragioni ma non dalla vita, la vita non lo avrebbe assolto, sarebbe stato condannato cioè ad una non vita perché io lo ammazzo ma poi si rende conto come ha già fatto Carla che pur compiendo quel gesto non cambierebbe nulla nella sua vita, ecco il perché, Carla è andata a letto con Leo, non è cambiato niente, lui lo ammazzerebbe veramente? Sì, ma cosa cambierebbe? Nulla, è solo un uomo che muore, basta, poi tornerebbe tutto come prima perché quella frattura è insanabile, non posso più tornare indietro, è caduto quel legame che mi teneva saldamente allacciato e ancorato alla realtà, non prova niente e quindi non trova la ragione per farlo, per andare fino in fondo. Poi mi sono segnato alcuni punti di questo capitolo perché secondo me sono fondamentali. Cosa capiamo dal capitolo 15, cioè da questa scena dell'atto mancato? Innanzitutto uno che la vita non cambia mai, non esiste possibilità di mutare la propria condizione, c'è ancora l'idea dell'ostrica vergiana, io per sopravvivere o per vivere una vita tranquilla devo rimanere ancorato al mio scoglio come l'ostrica e non devo sognarmi di andarmene, di gettarmi nel mare del progresso in questa fiumana che poi mi rigurgiterebbe, mi rispedirebbe a riva e mi praticamente espellerebbe insomma, mi rifiuterebbe una volta utilizzato, quando non servo più mi butta via. Pensate a tutta l'attualità di questa visione e di questa denuncia che c'è all'interno del romanzo, guardate che è un libro pazzesco che bisognerebbe leggere in tutte le scuole e che bisognerebbe fare e invece si studia molto molto poco, Moravia quasi non si fa mai insomma o comunque poco perché c'è qualche insegnante che ci tiene o comunque che ci arriva volentieri ma non si arriva mai oltre, non si va mai oltre Svevo Pirandello e poi, sì, ma non si va mai oltre Saba Ungaretti e Montale ed è veramente un peccato insomma. Ecco, lui non trova l'anello che non tiene il punto morto del mondo, tutti e due, Carla e Michele, hanno tentato la loro ribellione ma non c'è assolutamente possibilità di abbattere i padri per costruire una società diversa, la società che i giovani sognano insomma. Poi il secondo punto ecco che alla riflessione filosofica intellettuale insomma di Michele si contrappone sempre quella solida realtà di Leo di tutte le sue promesse materialistiche perché poi lui propone a Carla una vita comoda, lo shopping, i balli, le feste, quindi in realtà è la società borghese del consumismo e del capitalismo quella che risulta essere vincitrice, trionfatrice. Lei che esce vittoriosa da questo romanzo non posso cambiare questo tipo di società. L'altro punto importante è che il matrimonio anche qui viene presentato come un semplice contratto, non è un sacramento, non è un atto emotivo, affettivo, comunque caricato anche di un senso, di un valore religioso. Qui la religione, la fede non c'entra niente, anzi non c'è proprio più, è sparita, diventa solo un contratto stipulato tra due persone semplicemente per concludere un affare e lui da bravo affarista qual è? Leo non perde ovviamente occasione, ci guadagnerebbero tutti perché lui evita di perdere l'affare anche della casa, si prende una bella ragazza e quindi le ha tutte vinte praticamente. Notate sempre questo contrasto tra il pragmatismo di uno e la riflessione filosofica intellettuale, quindi la spiritualità, possiamo dire così la componente emotiva teorica dell'altro, quindi di Michele. Alla fine l'unico vero modo per risolvere questo problema filosofico esistenziale non è affatto l'omicidio, la ribellione, la rivoluzione, ma è proprio il matrimonio, quindi anziché invadere e fuggire da questa prigione quotidiana, quindi anziché trovare il varco, anziché scalare quel muro e buttare giù quei cocci a guzzi, anziché fare tutto questo, più rimanere qui, adattarsi alle regole della società, indossare le maschere, le convenzioni che vuole e che ci impone il mondo e quindi anziché dice praticamente Moravia andare controcorrente, meglio lasciarsi andare, quindi abbandonarsi ad essa, però ad un costo elevatissimo, non posso più essere me stesso, soffoco la mia essenza, soprattutto la mia personalità e quindi vivrò per tutta la vita come un prigioniero perché sarò una persona diversa da quella che in realtà sono realmente e che sento ed è questo il nostro male di vivere, è per quello che noi soffriamo tutti i giorni perché non possiamo veramente essere ciò che siamo, c'è sempre qualcosa o qualcuno che ce lo impedisce, soltanto che Michele l'ha capito ed è il motivo per cui soffre più degli altri. E concludiamo finalmente il nostro romanzo con l'ultimo capitolo, il sedicesimo, stupendo, veramente guardate, leggete questo libro perché è fantastico e inizio però leggendovi alcune righe perché si commenta da solo. Stiamo parlando qui adesso di Carla e di Michele che si siedono insieme in macchina, ovviamente fuori piove ed è sempre lo stesso scenario angusto ovviamente, però sentite come li descrive Moravia, sedettero l'uno a fianco all'altro nell'oscurità, non si guardarono, non parlarono, i sobbalzi della corsa li facevano saltare e urtarsi come due fantocci senza vita. Sono due marionette quindi non hanno vita, addirittura sono emanovrati dalla società, da qualcun altro ma è una non vita, non vivo. Adriano Meis, Mattia Pascal, il fu Mattia Pascal, dalle membra di legno, dagli occhi spalancati ed estatici. Michele stava quasi disteso, appoggiato al fondo e pareva meditare. Carla seduta, un po' curva, tentava di seguire la corsa e non ci riusciva. I vetri erano bagnati, un freddo vapore li appannava, impossibile veder nulla. Le parve di essere chiusa fuori dal mondo, sola, col fratello in quella scatola buia e di essere portata a grande velocità verso un luogo sconosciuto, dove si va? Così finivano la giornata e la sua vecchia vita, con una domanda alla quale era impossibile rispondere. Dove si va di giorno o di notte, con l'oscurità e la pioggia o in piena luce? Nessuno lo sa. Ecco la risposta. A che tante faccelle? Che vuol dire questa solitudine immensa? Ed io che sono? Nulla, non lo so più. Se non so nemmeno più chi sono, figurarsi se posso sapere da dove vengo o dove io stia andando. Notate però questa descrizione perché è straordinaria. È chiusa fuori dal mondo perché non c'è più il contatto ed è sola, viviamo soli, isolati, in questa solitudine che ammorba l'anima e che ci uccide veramente. Stiamo tutti chiusi in casa, ognuno davanti al suo tablet, al suo display, chiusi in stanze diverse, non ci guardiamo più in faccia e poi ovviamente vogliono implementare l'uso della tecnologia anche in quelle poche ore in cui siamo finalmente in classe e ci guardiamo in faccia. No, bisogna implementare, usarla sempre di più, sempre di più. Poi però ovviamente si lamentano e criticano la scuola e la società perché ci sono i fenomeni di bullismo, cyberbullismo in aumento e soprattutto perché non si sanno più gestire le emozioni. Ci sarà forse, penso no, un motivo ma due domande insomma me le farei. Quindi notate quanto sia attuale questo romanzo insomma ed è proprio durante questa corsa che Michele svela a Carla di aver pensato di darla in sposa a Leo, quindi di fare questa proposta, quindi espone tutto il suo pensiero, dice forse non sarebbe neanche così male però le chiede scusa perché si sente in colpa o finge di essere in colpa, insomma le sconsiglia di sposarlo, però lei ormai si è stancata, ha deciso di accettare la sua proposta perché è stanca proprio di ragionare, di pensare, ha capito che per quanto lei ci pensi non c'è in realtà una soluzione, non esiste. Quindi in realtà i due sono un po' come due facce della stessa medaglia, ma anche lei ha colto qualcosa, anche lei l'ha capito perché vorrebbe semplicemente fuggire, essere lasciate in pace. Capisce quindi alla fine che l'unico modo per sopravvivere, attenzione, che non significa vivere, ma sopravvivere per stare a galla e per non sprofondare e morire è solo quello di abbandonarsi alla vita, di lasciarsi trascinare dalla corrente perché opporvisi è davvero faticoso, insomma stanca, a un certo punto non ce la fa più, insomma. Ecco quindi tira fuori questo atteggiamento passivo, ha deciso di sposarlo, non l'ha ancora comunicato alla madre e la scena appunto il romanzo finirà proprio e con lei che entrerà in casa con la madre mentre entrano per cambiarsi perché devono andare a un ballo in maschera. Ecco di nuovo lei ha accettato di indossare la maschera e va proprio a cambiarsi, va a vestirsi. Ha deciso di aderire perfettamente a quel mondo da cui lei e il fratello hanno tentato in tutti i modi di scappare e a cui hanno tentato di sottrarvisi, però non è assolutamente possibile. L'unico veramente personaggio cosciente al 100% consapevole sia proprio Michele, tutti gli altri no, ognuno però insegue i propri desideri. Abbiamo visto, no? Leo l'affare della casa, Michele la vita autentica, Carla una vita diversa, una vita nuova, Maria Grazia recuperare il tempo perduto, rapporto con l'amante. Lisa vorrebbe Michele, però ognuno è così concentrato solo su se stesso da non comprendersi, da non capire più l'altro. Pensate anche alla nostra condizione attuale. Voglio salutarvi, voglio chiudere quindi questa trattazione proprio con un pensiero finale che ho tratto sempre dal sedicesimo e ultimo capitolo di questo meraviglioso, straordinario romanzo. Se non l'avete letto poi leggetelo veramente. Chiudo con le parole di Moravia e vi saluto, poi l'ultima volta vedremo un po' la vita dell'autore, poi ovviamente torneremo su di lui con altri romanzi. Un disgusto opaco lo primeva, i suoi pensieri non erano che aridità, deserto, nessuna fede, nessuna speranza la cui ombra riposare e rinfrescarsi. Non c'è più neanche il tedium vitae, addirittura qua non c'è più il fatto di sedersi e di osservare gli animali, gli armenti che mangiano, che brucano l'erba o che comunque sembrano indifferenti ai nostri problemi. La falsità e l'abiezione di cui aveva pieno l'animo egli le vedeva negli altri, sempre impossibile strapparsi dagli occhi quello sguardo scoraggiato, impuro, che si frapponeva fra lui e la vita. Io vi ringrazio per la vostra attenzione, spero veramente di avervi ispirato alcune riflessioni, di aver innescato anche la curiosità, perché questo è il nostro compito, non dare risposte ma fornire sempre nuovi spunti di riflessione. Se non l'avete fatto iscrivetevi al canale, come sempre vi aspetto alla prossima lezione. Ciao a tutti ragazzi, buona giornata, buon proseguimento.